Io sono Maria Donaddio, ho 24 anni e mi sono laureata in Ingegneria Meccanica Magistrale presso il Politecnico di Bari. Quando ho venuto a conoscenza del premio tesi Ingegner Femminile ho voluto subito apportare il mio contributo in quanto credo che non sia mai abbastanza dare risonanza a una tematica così rilevante, soprattutto a oggigiorno, quella della parità di genere e del divario che c'è purtroppo tra donne e uomini, soprattutto nell'ambito lavorativo e in particolar modo nelle facoltà STEM come Ingegneria. Ecco perché ho voluto partecipare e sono felicissima di questo risultato. Allora sì, io ho cominciato da poco appunto a inserirmi nel mondo del lavoro, ho iniziato appunto come Ingegneria in un'azienda che si occupa nel settore energetico e mi aspetto comunque dal futuro sempre di poter aspirare a ciò che è più, è conforme i miei interessi e i miei valori e sempre di affrontare con quella passione che mi ha portato a scegliere la facoltà di Ingegneria anche poi nel mondo del lavoro e nelle sfide che si prospetteranno.